E la centrale Enel di Civitavecchia rientrerà in attività lunedì prossimo e quanto prevede la nuova ordinanza del sindaco della cittadina portuale che però subordina la riapertura all'esito dei controlli nel sito che sono iniziati questa mattina. Alessio Orlandi. Se l'esito dei controlli sulla documentazione e le verifiche sul campo da parte degli ispettori dell'Inail e dell'Asla daranno risponso positivo, la centrale Enel di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia riaprirà i battenti lunedì prossimo. E' quanto prevede una nuova ordinanza firmata dal sindaco della cittadina laziale Giovanni Moscherini dopo la chiusura disposta dal primo cittadino per l'incidente del 3 aprile scorso in cui ha perso la vita l'operaio Sergio Capitani e altri tre erano rimasti intossicati. I controlli proseguiranno comunque anche la settimana prossima con il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Ma la decisione del sindaco ha però lasciato insoddisfatti gli operai della centrale. Non rientreremo in cantiere perché ci sembra impossibile, hanno affermato alcuni di loro, che in un solo giorno si è destinata alla sicurezza all'interno del cantiere Enel anche perché nella prima ordinanza si bloccavano i lavori e la produzione per 15 giorni tempo necessario a tutti gli ispettori di compiere gli adeguati controlli. Intanto, oltre a stabilire le cause della morte, l'autopsia sul corpo del tecnico di Tarquinia dovrà accertare se l'uomo poteva salvarsi, se soccorso tempestivamente considerate le ore trascorse dal momento dell'infortunio, le 11.30, e il decesso avvenuto due ore dopo. E mentre migliorano le condizioni di due dei tre operai feriti nell'incidente da un getto di acqua mista d'ammoniaca, si allunga la lista degli indagati per omicidio colposo stilata dalla procura di Civitavecchia. Tra loro anche Vincenzo Trippanera, il caposquadra di Sergio Capitani, e Ivano Ruggeri, responsabile dell'intera centrale. Intanto, per raccogliere informazioni sulla dinamica della sciagura, lunedì prossimo la Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro si recherà sul luogo dell'incidente.